Il nostro talento internazionale che è tornato e torna e tornata a trovarci quest'anno su Rai 2 ci invita tutti di nuovo a casa sua. La sua è una casa senza muri, senza limiti, è una casa in cui può succedere veramente di tutte e quest'anno sarà la casa delle meraviglie. Con stasera a casa amica avremo di nuovo quattro serate di bella televisione. Perché stasera a casa amica è un programma che ha saputo rilanciare il genere del varietà nell'accezione più nobile, il varietà fatto di scrittura, di talento, di impegno, di preparazione. Io vi dico che lavoro in questo settore da tanti anni e anche nell'intrattenimento da tanti anni e in un mondo che è così dominato da format internazionali che prendi, riadatti ma che in fondo si fanno un po' a scatola chiusa. Avere la possibilità per me e tutta la squadra di lavorare con mica alla creazione di questo programma è una boccata d'aria pura. Quindi grazie mica per il nuovo viaggio che faremo insieme. Come vedete il prime time è molto ricco, ricordiamoci che...